Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo a Campo Felice, ai piani di pezza e ragazzi una bella notizia di giornata è che stanotte ha nevicato e quindi ha imbiancato ancora, adesso continua a nevicare. Oggi saliremo per la cima di Puzzillo per fare diverse vette, dovremo fare tre o quattro e manteniamo bene l'allenamento la settimana scorsa dove abbiamo fatto Punta Trieste, Punta Trento. E anche capo di pezza, quindi ci manteniamo in forma e continuiamo così. Abbiamo lasciato la macchina qui vicino alla cava di Bauxite, speriamo bene che la municipale non ce ne voglia o la forestale non ci facessero molte per favore, grazie. E niente, oggi il gruppo continua a crescere anche se siamo sempre gli stessi, ma oggi come sempre immancabilmente con noi il grande zio. Ciao followers, se dice followers, io sono boomer, questo mi chiamo boomer. Comunque oggi giornativa fresca, guanti meno 20, fa freddo e non so a dove portano, oggi non l'ho letto, non so niente, non so neanche dove sto. Siamo tanti e con noi manca poco, i giorni sono contati per fare un compleanno di un anno che Sara è con noi. E' un ritorno, un ritorno, la nostra cara amica Gaia che è solita staccarci e lasciarci indietro, il suo passo forte e duro. Che ci dici Gaia, come va? Tutto a posto, tutto a posto, ciao followers. Magia ragazza è timida, mi raccomando seguite Gaia su Instagram e tutti quelli che seguono Gaia su Instagram seguite noi sul canale. Fa finta di niente, faccio la vaga. Buongiorno a tutti, buongiorno Donatella. E poi, ormai è diventata una situazione seria qua, con noi, in vicino. Buongiorno. Che dici, come oggi? La situazione è bella, freddo giusto, neve giusta e tutti buoni presupposti. Quindi, tutto buono. Ottimo. Dai regà, iscrivetevi al canale. Sempre. Io non ho saputo raccontare il percorso di oggi perché praticamente non mi ricordo un cazzo. Che cosa faremo oggi? Oggi facciamo cimate di pezza, tutte e due perché sono due se non sbaglio. Poi la cimata del Puzzillo, Rifugio Sebastiani, Costone Occidentale, Costone Orientale e poi non mi ricordo se è cimata di pezza o un'altra cosa di pezza e poi riceviamo nella valle. Ok, quindi oggi impegnativa e divertente. Speriamo bene nel tempo qualche nuvola. Niente ragazzi, sono di un sacco di cazzate. Buona visione. Buona visione. Siamo in cresta. Buona visione. Poi, adesso, vediamo questa testa. Iniziamo tutte le vette che portano poi al Sebastiani e poi vediamo se sta lì nel Costone. Prima cima di giornata. Un'aniversa, prima della testa. Un'aniversa. 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 Guardate la tecnica di Gaia sulla fotografia. Non vuole togliere il guanto e fare la foto con il naso. Fantastica. E' il grande zio! Venta numero? Ci fa la Devezza, l'avevamo fatto l'altra volta No, capo di pezza Era capo di pezza Sempre la Devezza Seconda letta di giornata Siamo di pezza Purtroppo Magobro fa storie col freddo Quindi spero di non aver perso qualche prezzo Comunque Siamo arrivati Alla terza vetta di giornata Terza vetta cimata di Puzzillo Ho fatto anche Cimata di Puzzillo E adesso Andiamo Al Sebastiani Diciamo Una pausa Abbiamo fatto lo spuntino Al Sebastiani Niente costone Scendiamo il giornale Abbiamo perso la macchina Un video del cazzo Lago però si è bloccata diverse volte Per il freddo C'è un vento gelido Da paura E niente ragazzi Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Mettete mi piace Iscrivetevi al canale E ci vediamo alla prossima Ciao belli 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 Grazie a tutti.